Beh, innanzitutto l'obiettivo che mi prefigo è quello di spiegarvi, spiegarmi un po' la mia carriera, il processo che ho compiuto, la strada che ho seguito e la tematica che mi avete proposto mi è sembrata interessante e quindi spero di riuscire a trattarla nel modo migliore. Lei impediscono la schiacciata e lei inventa il gancio cielo, è una metafora plastica di come un problema possa diventare un'opportunità? Beh, direi piuttosto che è stata la soluzione a un problema e mi sono reso conto che c'era bisogno di un tiro potente che fosse difficile da difendere ed è così che è nato il gancio cielo. Lo sapevo che sarebbe stato difficile per gli altri difendersi da questo tiro e l'ho utilizzato per tutta la mia carriera ed effettivamente sono stato quello che ha raggiunto il record nel numero di tiri realizzati. Qual è la prova a carriera finita che la sta impegnando e per la quale lei ha dovuto inventare un gancio cielo nuovo nella vita di me? Beh, la sfida che mi trovo ora ad affrontare è quella di fare qualcosa che per me sia essenziale e sostanziale, qualcosa che per me abbia un senso. Quando appunto mi sono iscritto all'università ho deciso di laurearmi in inglese e storia, sono state queste le materie nelle quali ho conseguito la laurea e sono queste le materie, gli argomenti sui quali ho deciso di scrivere. E appunto sono andato all'università proprio perché pensavo a prepararmi a quello che sarebbe venuto dopo la mia carriera da giocatore. Nella sua carriera costellata di vittoria c'è qualche rimpianto, non c'è qualche riscanto, ma qualche risultato non ha raggiunto? Se le cose nelle quali sono riuscito le avrei potute raggiungere un numero maggiore di volte, quindi invece di raggiungerle due o tre volte le avrei potute raggiungere quattro o cinque volte, ma sono sicuramente riuscito ad arrivare ai vertici di quello che ho fatto e dunque non ho rimpianti e sono contento di quello che ho realizzato. Grazie.